I Duran Duran con The Wild Boys, così è un attimo che si torna a mangiare panini su Corso Viettore Emanuele, così il mondo dei paninari entra di prepotenza con il Crystal History delle 8 qui su Crystal Radio Good Morning Milano. Sono le 8 e 10 minuti in questo istante e diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi, Roberta Lamberto, buongiorno consigliera. Buongiorno Fabio, non mi devi lassare, sono assessora. Ma sei stata eletta, tu come consigliere, sei abbastanza assessora, giusto? Ok, mi ricordo bene, infatti no, no, appunto, assessora del Municipio 7 di Milano che ci viene a raccontare un'iniziativa che in realtà, appunto, prima ne parlavamo, c'è già da tempo, però finalmente ho riuscito a ufficializzarla per bene, con tutti i crismi e magari, anzi, chissà, magari portarla anche all'estero, cioè in un altro comune milanese, in un altro comune italiano, però comunque va bene. È il nostro sogno, è il nostro sogno. Progetto Sollievo, di cosa stiamo parlando, Roberta? Stiamo parlando intanto dei centri di urni disabili, CDD, così la breviamo. Non si conoscono in realtà queste strutture, se non per gli addetti ai lavori, però sono dei centri importantissimi per i comuni, perché prendono in carico le persone con disabilità dai 18 anni ai 65, perché prima o poi la scuola dell'obbligo finisce e i genitori si ritrovano, o i caregiver, ma tendenzialmente sono i genitori, con le persone con disabilità, appunto, appunto, in casa, che dovrebbero continuare a proseguire in un percorso. Noi siamo fortunati, in municipio 7, io qui gioco in casa, ne abbiamo quattro. Ne abbiamo quattro e la particolarità è che non sono tutti del comune di Milano, perché ne abbiamo tre convenzionati, quindi come se fossero dei privati, e uno invece ha diretta gestione del comune di Milano. Quindi anche qui, partnership pubblico-privata, si va sempre a ritmi diversi. È stato un po' un lavoro da direttore d'orchestra. Ecco, perché tutto nasce da una richiesta, in realtà singola che ti è arrivata, che ti ha aperto proprio un mondo. Esatto, da una richiesta che pensavo singola, perché mi è arrivata singola da parte della mamma di una persona, di un ragazzo con disabilità, che poi chiaramente era un po' in realtà portavoce di tutti i genitori di questi centri diurni disabili. L'istanza era molto semplice, quanto toccante. E cioè, i vostri giorni più belli, Ferragosto, Natale, le ferie, insomma, per noi sono un macigno, perché il centro chiude, il centro chiude e dateci un po' di sollievo. E da qui anche la parola chiave, progetto del sollievo. E che cosa sei riuscita quindi a mettere in piedi, diciamo, in questi tre anni fa che aveva questa richiesta? Eh sì, tre anni, al 2021 ero appena... Già c'era un po' un qualcosa nell'aria, nel municipio 7, perché appunto abbiamo tutti i genitori di centri diurni disabili che sono molto attivi nel far valere le loro istanze. E il ragionamento è stato proprio di creare questo progetto del sollievo. Quindi in quei giorni in cui il centro sarebbe chiuso, appunto durante il periodo natalizio piuttosto che estivo, finanziare nella loro totalità delle vacanze per le persone con disabilità. E quindi poi ci siamo ritrovati anche a vedere dei video, magari con persone di 40 anni che per la prima volta sono riuscite ad andare al mare, e i caregiver che riuscivano ad avere un po' di sollievo. Perché c'è un tema che è un po' l'elefante nella stanza quando si parla di disabilità, e cioè il lavoro di cura. Il lavoro di cura è un lavoro totalizzante. Spesso i genitori vengono annientati. Io sono rimasta molto colpita. Oltre a queste vacanze noi ogni due mesi ospitiamo una conferenza e il tema ci viene richiesto proprio dai genitori di questi centri. Ed è una cosa importante. A volte si fanno queste conferenze e non calate all'alto e non viene nessuno. Invece quando abbiamo chiesto i temi, prima di tutto ci siamo ritrovati davanti a temi che non avremmo mai trattato. La sessualità per le persone con disabilità. Che cosa significa essere fratello o sorella? Si parla sempre di genitori. E proprio quando abbiamo trattato questo tema, spesso troviamo persone, ho ritrovato il mio compagno di banco del liceo, non sapevo nemmeno a essere un fratello con disabilità, che ci diceva, noi siamo una persona prima di essere chi si prende cura della persona disabilità. Però se non abbiamo tregua, noi ci annientiamo. E quindi il sollievo vuole un po' permettere una ricarica. Ecco, allora adesso sarò scontato, ma ovviamente dobbiamo andare con un po' di musica. E ho scelto Gali, ovviamente, parlando del municipio 7. Giochiamo in casa, vaggio. Appunto, giochiamo in casa, sarò scontato. Ma mi sa che questo, qualsiasi radio vai, Roberta, questo ti porti dietro. O rondo, quando... Credo non ce l'abbiamo nel database, mi auguro. No, scusate, no, l'ho detto, scusate, no, scherzo. Però poi torniamo ancora qui, perché appunto voglio capire bene poi oggi appunto fate una presentazione e poi anche quali saranno gli step successivi di questo progetto importantissimo appunto del municipio 7 con progetto sollievo. Gali con Casa Mia, 8-17 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, 331-7853-555, il numero a cui potete scrivere i vostri whatsapp, condividendo la vostra mattinata con noi. Siamo qui con l'assessore Roberta Lamberto a parlare appunto del progetto sollievo, che appunto diciamo ha tre anni, ma in realtà adesso vede la sua ufficializzazione a tutti gli effetti e chissà anche cosa poi però sarà in un futuro. Prima di tutto, oggi cosa succede per ufficializzarlo, diciamo? E oggi l'emozione è tanta perché si arriva alla firma del protocollo della rete del sollievo. Praticamente impegniamo le parti. Ah, della rete del sollievo. Della rete del sollievo. Quindi abbiamo i quattro centri di urni disabili, tre convenzionati e uno del comune di Milano, la direzione welfare del comune di Milano, ci saranno l'assessore Bertolè e l'assessora Romani, perché ha la partecipazione e ci ha dato una grande mano in questo progetto, e il municipio 7 un po' da cabina di regia, da capofila. E così ci impegniamo e lo formalizziamo. L'obiettivo è molto semplice. Prima di tutto nella scala milanese che dall'anno prossimo anche gli altri otto municipi mandino avanti il progetto del sollievo. E in realtà, iniziando a parlarne così, sui social sono anche stata contrattata da altre città, proprio Centro Italia, erano molto interessate. Quindi l'obiettivo è che diventi un po', diciamo, un buon esempio da seguire. Noi lo sappiamo, questa tematica qui è in capo a Regione Lombardia, il che un po' chiaramente lega le mani da parte soprattutto del comune e di conseguenza dei municipi. La nostra istanza è semplice. Con della volontà e un po' di coraggio amministrativo si può comunque fare la differenza. Perché questo che voi dimostrate, e che non so quanto ad altri possa far piacere anche, che è vero che magari appunto c'è una regione che non vi aiuta, c'è altre entità che non vi possono aiutare, ma voi vi la siete cavata da soli, non so come dire. Ecco, questa è una cosa molto importante. Io approfitto per dire una cosa. Io due settimane fa ero sotto Regione Lombardia con l'Eda e le altre associazioni della disabilità che dopo 12 anni sono tornate in piazza a manifestare. Non succedeva da 12 anni. E' successa una cosa molto grave. E cioè Regione Lombardia ha deciso di tagliare i fondi per la B2 e la B1. Quindi la disabilità gravissima. Su un bilancio di 3 miliardi tolgono 10 milioni. Sono cifre con cui facciamo un po' difficoltà ad approcciarci. Allora la dico semplice. Su uno stipendio di 1200 euro al mese, 1500 euro, vuol dire che io non trovo 41 centesimi per la disabilità. Questo è un tema. E invece, e ho rubato un po', diciamo, un esempio di un mio collega del Partito Democratico, quello che il Municipio 7 in maniera molto chiara e concreta vuole dire è che noi su questa tematica non abbiamo risorse infinite, ma se la disabilità per noi è una priorità, allora le risorse si indirizzano lì. E per il Municipio 7 la disabilità è una priorità assoluta. E questo è interessante perché appunto fa capire come i municipi che spesso e menteri appunto diciamo non hanno poteri, ed è vero, non avete delle idee, ed è vero, non avete soldi, ed è vero, però come dicevi appunto, con un po' di coraggio, con un po' di intelligenza, anche nel far poi parlare le parti tra di loro, insomma si riesce a fare delle grandi cose. i municipi che insomma adesso vabbè, non è che stiamo vivendo un bel momento in questo momento. In questo momento possiamo dirlo, tu non stai percependo uno stipendio in questo momento. Sì, purtroppo la situazione è complessa, sì, le giunte del Municipio, quindi non solo io ma anche i presidenti. I presidenti, i assessori dei municipi non stanno percependo, e voi direte, ecco gli sta bene, i politici guadagnano sempre tanto. Non è così, perché il Municipio, tu Roberta facevi un altro lavoro o studiavi? Non mi ricordo quando, perché tu sei molto giovane. Io studiavo e facevo un altro lavoro. hai lasciato il tuo lavoro per fare questo, anche come lavoro, adesso che sappiamo che non è solo una missione, ma per fortuna viene anche pagato e remunerato, ma in questo momento no, quindi adesso non vi dico di fare l'SMS solidale per l'assessora, però fa capire come il tema veramente della politica, soprattutto di prossimità, quella del iperlocale come municipi, viene distrattata a questo punto. Anche perché il lavoro secondo me riaggancia un concetto molto importante, che è sancito anche tra i nostri diritti, ed è la dignità del lavoro, che passa anche dallo stipendio. E allora andiamo avanti con un po' di musica, poi torniamo perché parliamo invece di belle iniziative che tutti gli anni proponi per il Municipio 7, e anche quest'estate, diciamo, non rimarrete da soli, anzi, prendo uno vecchio slogan del Comune di Milano, estate con noi. Ah, mi piaceva tanto, mi piaceva. Mahmood Tutagold, alle 8 e 25 minuti, ancora qui con l'assessora Roberta Lamberto, stavamo parlando appunto delle iniziative, che però ci saranno anche nei mesi prossimi in municipio, so che parlarne oggi sembra un po' strano, ma siamo comunque all'inizio di maggio, l'estate è alle porte, ma non sembra in questo momento. Le delibere vanno deliberate. Voi dovete essere un po' in anticipo sul tempo, ma avete deliberato, che cosa per quest'estate? Sì, terza edizione di Una Comunità Animata, un progetto a cui tengo tantissimo, si parla di educativa di strada, detta in parole semplici, animazione, nei cortili delle case popolari del nostro municipio. Quindi a Baggio siamo su Via Quarti, e qui siamo nel quadrilatero San Siro, dove se no. Proprio dentro i cortili, quindi a Biati, Zamagna, i pomeriggi ci sarà Equa, che farà appunto animazione, l'inaugurazione come al solito circense, quindi faremo un bel corteo per richiamare tutti i ragazzi e le ragazze. Ci teniamo molto. Intanto ringraziamo il nostro partner, che è Ains, che appunto finanzierà il progetto. Si riescono a fare come municipio delle cose coraggiose, come il progetto Sollievo, perché c'è chi sponsorizza altre progettualità. Se no, tutto sarebbe impossibile, dovremmo volare un pochino più basso. Ti faccio una domanda tecnica. Non sono quelli legati però, necessariamente Ains, poteva non farlo questa cosa, giusto? Cioè non sono gli oneri di urbanizzazione e cose del genere. Non sono assolutamente gli oneri di urbanizzazione e poi li rimangono. Va detto che effettivamente queste Ains, eccetera, hanno un bilancio di sostenibilità, quindi chiaramente hanno dell'interesse. Però potrebbero fare un murales, fare... E invece che cosa hanno fatto? Sono venuti, hanno parlato con la municipalità e hanno chiesto cosa interessa veramente al quartiere. La risposta è stata questa, che i bambini e le bambine delle case di edilizia residenziale pubblica, che non partono per le vacanze estive, lo sappiamo, che non partono, non rimangano da soli. E quindi si finanzia un qualcosa di vero e di concreto. E' una bella iniziativa appunto di privato, che finanzia qualcosa di pubblico, senza farlo appunto dall'alto della sua Torre d'Avorio, ma parlando con le istituzioni. Quindi ogni tanto si può parlare con voi? Si può parlare con noi. Io ci credo molto in questo tipo di sponsorizzazioni e penso che siano anche dei modi per abbattere un po' quei muri invisibili. Le nostre periferie li hanno. Il quadrilatero San Siro è come circondato a dei muri invisibili e questi progetti tentano un po' di abbatterli. Ormai quant'è che sei assessora, Roberta? Eh, ciao, giochiamo sui tre anni a settembre, ottobre. Come sta andando? Qual è il bilancio per adesso? Dai, raccontiamo un po'. Siamo in chiusura, ma un minutino qualcosa sul bilancio finale qual è secondo te? È sfidante. È sfidante. La macchina della pubblica amministrazione è tosta. Secondo me bisogna ricordarsi tutti i giorni perché l'hai fatto. Io l'ho fatto per il quadrilatero San Siro. C'è qualcuno appunto che noi abbiamo una trasmissione che si chiama Maccherazza di umani. Facciamo una domanda a tutti i volontari che troviamo. Chi te lo fa fare? Anche mio padre me lo chiede molto spesso. Chi te lo fa fare a te, Roberta? A me quei quattro pezzi di città dimenticati un po' da tutti. Roberta Lamberto, assessore del Municipio 7, grazie mille di essere qua con noi. Buon lavoro. Andiamo avanti con un po' di musica e poi ritorniamo qui per i saluti finali, l'ultima mezz'ora di trasmissione insieme e seguite comunque il progetto Sollievo ma poi anche tutte le varie iniziative le trovate sul sito del Municipio, sui social dell'assessore Lamberto. Insomma, trovate tutto quello che volete e magari a volta buona che vi appassionate anche un po' la politica che insomma magari ce ne sarebbe bisogno quando la politica fa qualcosa di buono è sempre bello parlarne, è sempre bello avere qui le persone, i protagonisti che fanno appunto della buona politica in città. Grazie mille ancora l'assessore. Andiamo con la musica, loro sono i Toto con Africa.